Ben trovati amici di calciomercato.com oggi per parlare di Ruslan Malinoski, centrocampista dell'Atalanta che sta facendo davvero ottime cose, che ha individuato come un uomo perfetto per sostituire il Papu Gomez intanto in questa fase di crepe nel rapporto con l'argentino e vedremo in caso di partenza se poi sarà lui davvero il titolare, ma tra Malinoski e Miranciuk l'Atalanta si sente coperta e molto contenta del centrocampista ucraino acquistato un anno e mezzo fa, dunque la volontà dell'Atalanta è quella di andare avanti con lui anche se in estate sono arrivate delle proposte importanti dall'estero, qualche club che era pronto ad aprire una tentativa per acquistare Malinoski, Atalanta che non ha mai voluto saperlo, ritiene Malinoski un giocatore intoccabile, ci sono stati rumors anche sull'Inter che però non ha mai fatto proposte reali per prendere Ruslan Malinoski al centro del progetto Atalanta per il presente e per il futuro.